La nuova linea Norstag la trovi solo su www.roby1976.it 4 profumi tutti nel formato da 100 ml, tutti extract de parfum, tutti di ispirazione, tutti con ottime performance, tutti super versatilissimi. Il primo ragazzi è in assoluto uno dei miei profumi preferiti e più utilizzati. Nella sua piramide olfattiva racchiude tre semplicissime note, pompelmo, ambroxan e note legnose. Questo profumo è ispiratissimo a Bulgari Tiger, le gemme, serie top di casa Bulgari, lo ricorda tantissimo. Il secondo profumo ragazzi è un profumo che ha una piramide olfattiva decisamente più corposa, leggermente più complessa, ma rimane comunque versatile e utilizzabile in qualsiasi circostanza. e in qualsiasi stagione ovviamente. Questo è ispirato a Leighton di Parfum de Marley. Quello che ne viene fuori è un profumo con un'apertura di mela e lavanda marcata. Nei cuori trovi una bellissima nota fiorita maschile e in chiusura hai della vaniglia, delle spezie e delle note legnose. Un altro profumo. Con il terzo profumo ragazzi, Norstag decide di andare ad ispirarsi a un brand importantissimo nel ramo della nicchia, sto parlando di Louis Vuitton. L'ispirazione di questo profumo è Ad Imagination. Mi piace definire questo profumo frizzantissimo perché dopo un'apertura agrumata il profumo si evolve con delle note di zenzero e chiude con delle note di olivano e tè nero. Mi viene fuori ragazzi un profumo super versatile, adatto a qualsiasi stagione, perfetto per le stagioni calde e con questo profumo qui secondo me il complimento è assicurato. Il quarto ed ultimo ragazzi, sempre ispirato in casa Louis Vuitton, ma in questo caso parliamo di Afternoon Swim. È un profumo con tre semplicissime note al suo interno, mandarino, arancia di Sicilia e limone. Il risultato ragazzi è in assoluto il festival degli agrumati. Questo oltretutto secondo me è un profumo che può anche essere indossato dal pubblico femminile e sicuramente se ti piacciono gli agrumati, questo è un profumo che nella tua collezione non può mancare. Parola di Roby. Io ragazzi con la nuova linea Nordstag ho concluso. Ti ricordo se vuoi dargli un'occhiata vai sul sito www.roby1976.it Ogni 10 euro di spesa hai un campioncino da 2 ml in omaggio. Raggiunti gli 85 euro i campioncini diventano 10 e in più hai le spese di spedizione gratuita. Io come sempre rimango a tua completa disposizione.